Salve, salve da Marco Calabro per conto di Turbidio. Ci troviamo oggi in Colombia e quello che stiamo vedendo è un aeroplano della Viva Colombia, che è l'unica compagnia low cost presente nel paese. Viva Colombia utilizza Airbus A320 come quello che stiamo vedendo, quindi aeroplani di produzione europea di buona qualità. La flotta è comunque composta da aeroplani di seconda mano, sono tutti più o meno produzioni che vanno dal 2002 al 2010. Il servizio comunque è buono, è sicuro, non ci stanno grossi problemi. Il problema è le valigie. La Viva Colombia prevede solamente valigie fino a 20 kg, quindi bisogna stare estremamente attenti a questo, però si può anche acquistare una valigia di 12 kg da mettere sull'aereo, perché nella norma loro sull'aereo prevedono solamente una borsa di 6 kg. Quindi il servizio va bene, l'unica cosa è forti limitazioni dal punto di vista del trasporto delle borse, dell'evoluzione. Grazie per ascoltare i video di Turbido e Arisi 13.